Oggi, secondo me, ho chissi Guardate il centrale per la partita, ragazzi Chi è? Ma il Nicola secondo me è a chissi oggi Eh? Ci siamo? Sì, sì, ciao Ciao, le puoi pulire? Le puoi pulire? Te l'ho occupato Oggi! Oh, no! Cioè, fossi una volta che succedesse un po' di là Oh, no! Oh, no! Ecco a tavola Oh! Oh! Nera! No! Ma che d***a! Ma p***a puro! Libertà! Ma p***a puro che perde reazione, ha forza! Volevano molto male si pure io La direzione lo aiuta Ma aiuta! La direzione è segnalata, che sei Un lupo! Un lupo! Un lupo! Mamma! E' una bella profondità di quella c'è casa da Campeo Ma che amato di rompere? Ma drati, ma drati! non da perdere la volta è pulire la volta è sapata gol gol ma non è un po' di quello che è un po' di quello e che c***o pensavo non ci arrivava e mi dice già è un po' di quello ma Tavante ha molto ingegno su questo è un po' di quello io prima è stato bravo che non riballa chi sta ingegno i non ho capito come no c'è una quella di buonattica vana che cosa perdono tanto subito mi fanno cadere fermandola la terza volta e quindi immagine ił个 un miracolo perché aveva perso ci sta in mano il pallone a demora l'ocman aveva affiutato che cosa di ma che partiti che culo che culo la testa vincente da parte di giorgio il cane ma tu non sta chiamando la tua la stessa a pallire quando non c'è questa situazione lui viene incontro a partire di là e poi si addormenta questa partita è l'unico che sta cercando all'interno della manovra della salita vincente di dare qualità a essere della gara guarda l'unico che è tardi io non so se la facciamo giusto per fare sta live ma è una live è quella dove arriva diafilo in fondo dai ma no si è impossibile 5 a 2 la segnali vai la segnala cosa blocca? picciolato c'è il cappotto un sogno fuori per l'uomo destro di l'uomo 6 a 1 eh pensa che è frummo che è bovino sta fumando la pia che è bovino ci viene in gioco tutto non c'è gioco ancora in aria lo potrono con rugeri ti sposta a palla fa fuori Nicola dai primo gol in serie il ragazzo è arrivato da un petto guarda quella si è assoluti roll c'è la macchia ma dai no 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 purtroppo no destro no 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 qui no di Ederson che non è solta per rispetto alla salernitana in Atalanta Marco non ha alcuni pensati questo è il peggior risultato è 72 non mi scusse ma è un'assessuale si è anche te cosa che ha fatto l'uomo sull'ammallarezza non aveva fatto un po' l'attenzione se lo facciamo giusto per fare sta live ma è una live beriù sanità non chiamathon non donar lan un